Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa altra parte di King Kong, siamo in compagnia del nostro caro amico, del nostro caro non ce la faccio più con King Kong, è ormai diventato un incubo per me, tutti quanti a chiedere King Kong, tutti, PS2, allora, oggi carissimi parlerà solo PS2, perché io non so cosa dire, si PS2 parli tu, perché tu stai giocando, il gioco è tuo, non c'entra, c'entra, parli tu, io parlerò raramente, no, non so io non parlo proprio, no devi parlare, eh non parliamo, ok parlerà PS2, non mi ricordo i comandi, cazzo, qual era l'ultima missione, l'ultima missione, era quella, l'ultima missione, se volete sapere dove eravamo, andatevi a vedere l'ultimo video, se no che ve lo dicevamo a fare, questa è la missione, non l'abbiamo detto scolo pedra, ovvero puoi avermi là sotto, che piacciono a PS2 se ne mangio a colazione, ma nell'ultimo video c'erano un attacco di cuore, ricarica, 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 come potete vedere qua ci sono i collo lunghi, che bello mamma me ne compri uno, no, non te lo compro, perché a casa io non te lo tengo, mi portavo fuori, e dopo vedrai papà, ma dai amore, glielo prendiamo un collo lungo, si papà il collo lungo, che bello, è un cazzo, non è lungo, intanto vedete i Batman nei vostri dispositivi, come li ha nominati PS2 i Batman, ecco la Batmucca, che adesso lo prende nel cuore, no a fondo, ecco a fondo, pensate se hai giunto crepa infame, parecchio, parecchio proprio, ma perché devi consumare le lance come un affonso, ma perché mi offendi, io non voglio che diventi come lui, capito, ma perché ti spaventi a prendere le munizioni, avevi paura che ti esplodeva il fucile, chissà cosa passa sotto la porta, e poi quel deficit non è che si gira, sta sempre a guardare l'altra porta, vedete, non è che si gira, deve guardare il pavimento, ricarica ogni volta che colpisce qualcosa, vedi, se non rimane senza munizioni, questo è con ricarica sempre, e sparano, vedi, aveva puntato perfettamente alla bocca, doveva sparare sulla chela, sulle chele Findus, non doveva pubblicizzare i prodotti, PS2, eh appunto, mannaggia la misera, divane e divane a proposito, ma da la putta manna, PS2, non si devono pubblicizzare i prodotti, divane e divane, e poltrone e sofà, mi raccomando, e altro che non ce lo fa, nel, ricarica, vabbè, oramai conoscete la mira di PS2, allora, un fucile da cecchino, e non usa lo zoom, ma sono PS2, un caricatore di spesso, sei fesso, perché quello fa, si, PS2, quando smetti di parlare all'aramaico, perché non, aspetta, quando è fermo, oh, vai avanti, hai tre colpi, solo per dirmi, in caso di una gente, a buttare un verme là, ma perché, li hai uccisi tutti, i verme, ciao, eh, non me lo farei dire, guarda, mi sta prendendo il verme, è venuta una battuta, bellissima su PS2, grazie, la devo dire, la dico PS2, eh, muore, no, non è muore, la dico, che hai, cosa, sicuro che la devo dire, la battuta, dimmi, è un po', dimmi, cos'è, dimmi, no, intendevo dei verme, dico il verme tuo, no, 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 ma non quello, il verme solitario, quello che è nello stomaco, eh, eh, non intendo la, eh, si, questo video, sarà parecchemente, scena, dopo la casa scena, i verbi osceni, eh, che sei stupido, perché hai dimenticato il fuoco, se dice, sì, hai ragione, ho grande gioker, hai ragione, mi inchino la tua sapienza, ma va a farlo, va, scusi, è l'istinto, che sei tu, è l'istinto, io, sai cosa, te lo stacco, e te lo ficco su nel, rimanendo in tempo, eh, è il pensiero, cioè, guardate, ha un fucile, perché non lo prende? me lo manca a 5 mm spara spara ps2 dai le tue prime opinioni sul livello cosa ne pensi vabbè a parte questo cioè non è nient'altro da dire sì il ps2 sta dicendo crepa brutto infame non si che o come gioco il livello sto dicendo quindi tutti questi vermi tutti questi cranchi ti piace attenzione qua sotto di te vorresti essere al suo posto ps2 certamente cioè vorresti adesso essere armato di fucile e affrontare dei vermi e dei cranchi bene a parte scusa tutta l'acqua park guarda c'è una lancia e che lancia chissà chi l'ha chi l'ha lanciata l'ha lanciata l'ha lanciata l'ha lanciata ma che no ma il gioco no no questi giorni mucciacci fatto quest'isola è un caricatore di scorta a posto l'ha lanciata l'ha lanciata l'ha lanciata è un bel fuggilazzo è un bel pompazza ma non quello incorporato dentro di sé è quello del gioco che è quel pompazza il prenotato Va bene Allora caro PS2 La missione finisce qui Anche se siamo a 9 minuti Si finisce qui Faremo infatti video brevi Come ci ha illustrato il nostro caro amico Forever PS2 E va bene ragazzi Se il video vi piace Ma proprio vuoi terminare così Si si subito veloce Perché ho fretta devo fare la cacca Quindi sono in realtà Ma anche perché molti iscritti Ci hanno detto di fare video brevi Ecco che accontentati Però allo stesso tempo vi fregate Perché vedete molto di meno Comunque non è un'appesa Devo dirlo Sicuro Denham E con No Jack Jack Driscoll E si dice E questo Jack Lui chi è Qualcosa di me E dai vabbè da I saluti Da Vabbè Joker Pro Game PS2 Forever E tutto Stop ai Joker Perché ho letto la telecamera Eh stop 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 Vabbè vi state dicendo Andate a fangolo Insomma Stop No perché devi concludere tu Ciao Ma sempre Ciao ma di qualcos'altro Ma a meno è una battuta nuova Dai Arrivederci Oh E grazie cari E grazie cari E grazie cari